Dov'è sto pezzo? No dai ma non è possibile Eccolo Scusate Matteo ho avuto un attimo di idee Il pezzo è là Stendete Insieme a me Da questo video Ho un'altra filosofia di video Buonanotte Buonanotte ragazzi Ma porca o ce la faccio Fermo tu Ma la finisce la mia pancia Mamma mia solo quella si sente Controlliamo che sto registrando perché poi pure là ci vediamo Ma posso farlo anche mentre parli Sì sì proprio mentre parlo giri Anche vieni magari tipo qua più vicino Riprendi tipo medilato Quindi puoi fare Fai un po' di video Allora non mi ricordo anche più che devo dire Prossima domanda Stanno distruggendo qualcosa Allora No zitta che bellissimo Cosa non ti piace dell'estate ma mi è passata un'ape Vabbè Ultima domanda prima di farci ancora del Buonanotte dai Sì Mamma mia questo video deve essere al naturale certo ma Fanno più caos oggi Che quando lo devono fare Cosa c'è Alessia? Ah una persona mi sta fissando Non importa Andiamo avanti Cosa da Ops Allora Ma con cosa fai difetto? Io non capisco con cosa fa difetto oggi il microfono Effettivamente nel luglio Nel null Nel luglio Quindi Adesso manca Aspettiamo che Alessia finisca di girarsi Ok Oh Silenzio Prendiamo il nostro Ultimo Trigger Dai mettiti a dormire Dai veloce Ale che sennò non posso cominciare Che stai facendo? Devi metterti a dormire Tu ti sei alzata da sola Io ti ho detto Stai ferma Che stai facendo Che casa Cosa Ma proprio adesso deve tossire mamma Un attimo che sta passando un pullman alle 3.52 Quinti si, tu, 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 no, non è possibile Grazie